Se ai miei colleghi sembra normale che un pronto soccorso sia invaso dalle zanzare e che i professionisti dentro debbano stare a cacciare le zanzare con una racchetta, io credo che non sia normale. Ma come a livello generale dell'ospedale, quando mi viene detto che è vero che ci sono degli ascensori fuori servizio da mesi, ma ce ne sono altri che funzionano, se è normale per me non lo è. Solamente qualche giorno fa era stata la stessa prima cittadina di Montevarchi a denunciare la presenza di zanzare nei reperti dell'ospedale del Valdarno, a seguito di numerose segnalazioni di sanitari e cittadini. Aveva così chiesto un intervento urgente dell'Aslec, nelle ore successive aveva annunciato interventi di disinfestazione, adesso però la sindaca torna a chiedere più attenzione per l'ospedale di Santa Maria alla Gruccia. Sono sette anni che denuncio una politica molto chiara di depotenziamento del nostro ospedale e non lo dico io, lo dicono purtroppo i fatti segnalati quotidianamente dai cittadini, perché a me i cittadini scrivono come mi scrivono i professionisti che lavorano dentro all'ospedale e in questi sette anni nonostante il conoscimento di primo livello niente è cambiato ma la situazione è particolarmente peggiorata. E per me è una vergogna che i miei colleghi non si sia tutti in qualche modo l'una accanto all'altra per cercare di difendere i servizi che esistono e che esistevano nel nostro presidio ospedaliero. Dalla sindaca poi un plauso invece a tutti i sanitari che lavorano nell'ospedale del Val d'Arno. Abbiamo grandissimi professionisti che oltre ad essere capaci mettono una passione e un amore nel loro lavoro che è fuori dal normale perché lavorare da anni ormai, da un punto di vista numerico, sottodimensionato in maniera importante, molto spesso, annate intere senza avere un primario, che è un altro aspetto che crea grossissime problematiche poi di gestioni del settore. Ecco nonostante questo la nascita, l'aver salvato due vite in emergenza l'altra sera è un altro segnale del fatto che i nostri professionisti fanno il loro dovere anche al di là di condizioni lavorative non accettabili. Quindi è per questo che bisogna continuare in maniera fattiva a lottare per il nostro ospedale.